Everybody needs a boot for a pillow Everybody needs a boot for a pillow Padre e mostro, toccavi Leccavi Padre e mostro, spogliami Ma come dirlo a mamma, che lo vuole il culo? Ma come dirlo a Fornaro e a Ferdinando Macellaro? GAY PORN! GAY PORN! Tu uso la sedia legata da ore Non farai tempo a chiamare dottore Oh ma la cazzo, ma la cazzo C'era dentro l'arma del delitto di Cogne Cogne! Esamodontico! Esamodontico! Negrossi! Psicofarmaco! 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 L'han detto al telegiornale Falcone e Borsellino son caduti dalle scale A bruciare le patate nel forno sono stati gli skinheads Perchè non te ne torni a casa e metti sul disco dei Voivod Così magari capisci dove è sbagliato Sei qui solo per le delle camere! Sei qui solo per le delle camere! S Türk è solo per le delle camere! S